Siamo tornati ai Dossarelli di Lemose, questa è una vera e propria camminata tra i rifiuti. Siamo in un parcheggio in cui eravamo venuti più volte sulla base delle vostre segnalazioni. Qui praticamente si è creata una discarica abusiva, si trova di tutto, bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, piatti, bicchieri, ma addirittura, come potete vedere, c'è anche un mobile in legno. Rifiuti ovunque nel parcheggio di via Dossarelli di Lemose, tra l'autostrada e la zona artigianale di Piacenza, nell'area di sosta sono presenti molti camioni e furgoni e il prato adiacente è invaso da cumuli d'immondizia. Le nostre telecamere hanno documentato per l'ennesima volta la situazione di degrado segnalata dai cittadini. Già in passato avevamo raggiunto quest'area dove l'inciviltà continua a dominare ed è sotto gli occhi di tutti i passanti. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni a tucronista.